Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo video su FIFA 23. Iniziamo la carriera allenatore con Massimiliano Allegri che è stato esonerato dalla Juventus quindi decide di ripartire dal basso e riparte dal Bari FC. Ragazzi spero che questo episodio vi piaccia infatti lasciate un bel like se vorreste il prossimo episodio sulla carriera di Massimiliano Allegri. Adesso vediamo il video presentazione. Signore e signori è con grande piacere che vi presento il nuovo allenatore. Non assomiglia per niente ma dicono che sia uguale. Ovviamente dato che il Bari appartiene al club di De Laurentiis il signor De Laurentiis ci ha fatto un piccolo regalo, il cosiddetto investimento. La squadra che ci troviamo è questa con Antenucci, Keidira, Maiello, Meita. Ovviamente cambieremo schema di gioco perché io con questo schema non so giocare. E partiremo con un 4-2-3, il classico modulo napoletano. Per modo di dire ovviamente non è del Napoli ma napoletano, quello che gioca il Napoli. Allora, adesso vedremo prima dal mercato, iniziamo a prendere un giocatore che tutti vorrebbero vedere su FIFA e che aspettavano da tempo, ovvero Kvara Schelia. Ovviamente partiremo dal basso con Kvara che sarà la nostra stella, Kivicia, Kvara Schelia. E poi cercheremo di prendere un buon attaccante come si deve. Ovviamente noi simuleremo questo. Cercheremo anche di scoprire qualche talento all'interno stesso del Bari. A proposito di talenti, vediamo un po' l'hub della rosa. Vediamo un po' se si c'era un talento. 67 anni, il partire, 67 anni. 67 di valutazione, 20 anni. Ti devo dire. Vabbè, questo sarà sicuramente venduto perché 31 anni può anche andarsene. 23 anni, no. Allora, no, 22. 32 anni sta. No, no, no. C'è già la lista trasferimenti immediatamente. 37 anni. Ma questo è un po' anzianotto, ragazzi. Allora, abbiamo già un po' da dove prendere spunto. Vediamo il bivaio cosa ci offre la casa. E abbiamo un talento locale. Che è un portire, però. Però è 25 di overall. Mannamia. Questo è un'ala destra. Ragazzi, è un'ala destra. Potrebbe giocare benissimo. A 7 di velocità. Figa. Forte. Prominiamo in prima squadra. Un'ala destra turca. Il signor bianco. Se lo possono pure tenere. Bianco latte. Vediamo un po' il signorino qui presente. Abba della rosa. Dove può giocare? Schemi di squadra. Gestione squadra. Vediamo un po'. Kaya. Oh, fa più due da ATT. Abbiamo trovato il nostro intercante. Kaya. E allora diventi un bello ATT, ragazzi. Giocheremo con il nostro Kaya e Clara Schedia. Iniziamo. Beh, che dire. Il signor Massimiliano Allegri. Perderemo sicuramente. No. Si scherza. Adesso. Cerchiamo di migliorare il signor Kaya. Andando su. Rosa. Abba della rosa, ovviamente. Poi, mettiamo, partendo dal. L'ala destra del signor Kaya. Beh, 17 anni. Secondo me diventando l'ala destra, ATT migliorerà di pareggio. Ma come in 19 settimane? Com'è possibile? Mi fa più due da ATT. Che strano. Vabbè. Contento loro. Contenti tutti. Adesso. Gestione squadra. Allora. Allora. Adesso accanto mi fa più due. Vabbè. Come detto, contendo lui, contendo lui. Dovremmo prenderci un bel portiere, ragazzi. Un bel portiere e un bel... Un po'... Un bel po' di giocatori. Vediamo qua cosa ci... Dà a disposizione. Le azioni osservatorie. Vediamo un po'. Starezza di 25... 25 anni. Giornalani è un attaccante. Beh. Ieboa è forte. Ieboa è molto forte. È bagato. Degli attaccanti. A noi ci servirebbe un bel portiere e un'ala destra. Stiamo a vedere un po' se riusciamo a prenderci il nostro... Kivicia. Quella schedia. Allora. Saltiamo un po' di giorni. Perché? Allora. Ufficio. Calendario. Saltiamo un po' di giorni. Siamo fino al 9. Oh, la prima partita è contro il Torino. Anche se... Amichevoli di lusso. Direi. Dovremmo avere notizie, infatti. Offerta per il trasferimento di Raffaele Puccino. E dai. Un milione e quattro. Oh, un terzino destro. Un milione e quattro. Ti devo dire. Quindi ora diamo all'Astaid. Ah, questa è la famosa attaccante. Ah, sì. Prendiamola. Stessa cosa, un milione e quattro. E chi c'è di là? Un milione e quattro. Secondo finale su Joe, famiglia. Ruben Botto. Offerta per il trasferimento per Ruben Botto. Vabbè. Sessioni sul vivaio, la nostra visione, la nostra... Primo risultato, molto piacere. Vabbè, piacere e grazie. Molto piacere. Anche a te. È un sogno che sia vero. Non ti preoccupare. Sarai la nostra punta di diamante. Che gli ha. Eh, lo so, Antinucci, ma lei... Non è più forte come un tempo. Non l'ha da togliere al signore Antinucci, eh. Però... Andiamo un po'. Il suo conto finale su Kevin Yeboah e Rasmund Hojung. 67, attaccante, 19 anni. Ci sta. Eh, questo 22. Pure non sarebbe male. Chi vince, come è la situazione? 18 milioni. No. Vediamo questo ragazzo baschirotto, 25 anni. No, c'erano uno di 20 anni. Dov'era? Non so se prendere lui. 67. Oh, Kevin Yeboah. Quanto c'è la velocità? Accelerazione 91, ma Yeboah tutta la vita, signore. Abbiamo anche... Attaccante. Andiamo a prendere Yeboah. Direttamente da Genova. Sperando ce lo diano, ovviamente. Allora, Aldo di Mercato. Allora, Chi Vicia lo possiamo prendere. Andrebbe seguito ulteriormente. Vabbè. Comunque, noi iniziamo a prendere questo ragazzuono. Un 3.700 per chiudere. Offrendo intorno... Eh, no. Potresti chiudere offrendo intorno ai 3.700. 500. Va bene. Facciamo 3.4. Vabbè, 3.7 che chiudiamo, dai. Non sono molti soldi. Non ci interessa della velocità della rivenda. Il nostro attaccante, il primo acquisto del Bari FC, richiesto da Massimiliano Allegri e Yeboah. Attaccanti 22enne. Vavo 4 anni. Beh, ci sta. Quanto prendi? Vi stiamo andando 3 milioni. 3.6. Più 20 milioni. Me l'ho offerta, va dai. Siamo onesti. Bravo, Massimiliano. È stato persuasivo su questo. Il nostro... Il nostro attenzione. Quando vedete cavare la scheda, che fate? Mi emozionate. Rotazione prezzo, quanto mi dai? C. Totale giocatore 70, lo sappiamo che è 70 di euro. Avanti, buon prezzo. L'uolo confrontato. Ma non è un'ala destra. Vabbè, cavare la scheda, questo sarà il nostro colpo da 90, signori. Penso che cavare, per chiudere, è un 19 mila, 19 milioni. Ce lo siamo portati a casa, signori! 19 milioni! Chi dice cavare a Schelia? Direttamente da Napoli. Vabbè, chi l'è dell'Aurentis? Dell'Aurentis ci fa un piacere. Ovviamente cruciale. Sarà la nostra stella. Cinque anni, dai. Dai, quattro. Guarda, il bonus. Guarda, modifica stipendio. Te ne do un pochettino in più. Avanza l'offerta. Perfetto. Tieni manco il bonus stipendio. Eccolo! Il top player! Cavare a Schelia! Eccolo! 19 milioni! Come mi dai la valutazione? B! Buono! Buon prezzo! Bell'attaccante abbiamo preso, signori! Bell'attaccante! No, fa meno! Sto ragazzo però... Che cosa mi attira? Ci penserò. Adesso abbiamo preso questi due giocatori. L'attesa di prenderne altri. Facciamo su gestione squadra. Adesso vediamo che dira. Che, sinceramente... Ma è 76! Eh! Ci credo, 76! E' buono che si! 76! Vabbè, non rimani... In realtà rimani più due. Diventa alla destra, no? Alla destra. Secondo me... Kaya... E' buono. Schemi di squadra. No, amba della rosa. Adesso potenziamo un po' il signorino. Sia chi vicia che... D'Evoa. C'ha 22 anni. Migliore della... Però ha 91 di velocità. Fischia. Si è forte. 91 di velocità. Poi abbiamo chi vicia che è 76, signori. Ha qualcosa per diventare speciale. Te ne sono resi conto che non è un... Un argentone. Testine. Eh. Foros... 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 Forosunio. Ah, ma questo è dal Napoli. Ah. Aspetta. Ma lui è 59, ha 20 anni. Potrebbe migliorare. Promessa. Dal Bari. C'ha 20 anni. 17... 57... Ti devo dire. Meglio... Che mani attiva? All'è invertita. C'è quello che diventa di forte, ragazzi. Mi tengo poi a caia che c'è il 57, voglio dire. Almeno 17 anni. Può ancora migliorare. Allora, dovremmo prendere... Folorosunio. No, un COC... Decente. Si deve prendere. COC. Vediamo un po' cosa offre la casa. COC. Vediamo 50 milioni. Vediamo un po'. Un po' di mercato. Andiamo proprio... Andiamo a pescare nella... Liga Maggiore. In Serie A. Vediamo un po'. Cosa ci danno con il CAC. Oh, Maldini. Maldini sarebbe il buono da prendere. L'avrà in prestito. 20 anni. Colpato. Eh, Piotra. Penso che Piotra venga al Napoli. Al Bari. Non credo. Però... Potremmo provare. Che ne dite? Piotra Zinischi al Napoli. Al Bari. Non so se ce la fanno come... Cosa? Allora, trasferimenti. Vediamo un po'. Se riusciamo a prendere questo... Piotra. Quanto vogliono? Mamma mia. Ah, però è 37 e 2. Vuoi chiudere. Bene. Allora proviamo a fare 37 milioni. Vediamo se è 37 se lo prendono. Ho 36 e 900. Vediamo. Allora, 36. L'hanno accettato. Non ci credo. Ma è pazzo della Aurentis. Abbiamo finito tutti i soldi. Bene. Abbiamo finito tutti i soldi. Dobbiamo vendere qualcuno, ovviamente. Ma non abbiamo venduto a quelli là. Scusatemi. Allora, vedete di vendere a quei due. E qua dobbiamo prendere Zininski. Hub di mercato. No. Ufficio. Calendario. No. Dobbiamo vendere... Vedo questi qua. L'ha venduto? Dimmi che può aspettare Zininski. Sì. No, come? Ma dai, Piotro. Ma aspetta. Mortangorelli. Eh, vabbè. Ci abbiamo provato, ragazzi. Salsito. Oh, Salsito. E non è quel pezzo forte. Degli Inter. Infatti. Questo è C.O.C. 68. No, puntate per acquistare. Andiamoci Salsito. A questo punto. Due milioni. Ma non è che a due... E otto? Ma la potete prendere? Fatto. Ah! Ma qua sta. Due milioni e otto. Ci sta. Vedi trattativa. Attentiamo... Il ragazzo. Andiamo di venti del Bari FC. A tutti gli effetti. Ragazzi. Salsito è un bel giocatore. Cruciale. Esatto. Quattro anni. Non mi va benissimo. Accetto. Aspetta. E' matinato. Rimuovi. Insieme. Poi, po, 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 po... Stimen. Di due milioni. Esatto. Pecisi. Ci sta. Ci sta. Vi ho preso. Sì. Vabbè, possiamo schipparla. Poi ogni volta. Sembrerà. Stessa. ho preso il salsedo andiamo da C.O.C. anzi prima C.O.C. che ha ti? prima C.O.C. signor C.O.C. per il nostro trequartista esatto divento prima trequartista poi dopo vediamo un po' la situation in English allora ancora allenamento vabbè allora saltiamo un po' di cose che è successo qua? fucino venduto ottimo salve mister ma salve anche noi anche noi personalizza vedi incarichi calendario vediamo se questa squadra è in grado di giocare a calcio a calcio questo che cos'è? 25 anni volpato C.O.C. eh malvini se lo fa non se lo fa è in prestito mannaggia oh in prestito possiamo prenderlo ma no c'è timbile in prestito se è buono lo prendiamo è buono da prendere Zanoli ma il Zanoli è quasi un contratto in scadenza stiamo prendendo quasi tutti i giovincelli del Nago tra cui uno dei più forti abbiamo preso Clara Schelia vediamo se questa squadra è su Daniel Maldini 66 65 eh è che sia un gran game però lo sistemiamo un po' la squadra nel frattempo facciamo la nostra prima partita contro il Torino contro una una delle squadre forti della serie A dove è? che dira che dira è l'attaccante il ragazzo ah sempre del Nago che eserzito metti per là che dira ce lo teniamo ma lei va galano qua facciamo questa partita e ci salutiamo allora tutto pronto possiamo iniziare andiamo giochiamo questa partita dai ah ragazzi fai consigliatemi qui sotto nei commenti chi comprare come giocatore oltre agli acquisti che già avete visto in questo episodio bellissima è tra i protagonisti annunciati del match tutta l'emozione la tensione sul suo volto prima del match non potrebbe essere altrimenti siamo a Dortmund nell'importante cornice del Signal in una park che fa la sfondo bellissimo per il match di oggi ben ritrovati all'appuntamento su EATV con me c'è come sempre Daniela Dani riflettori puntati sulla coppa internazionale europea che si apre oggi si annunca la passione di grande livello match che segna il loro esordio in questo precampionato c'è grande curiosità per capire a che punto è la preparazione gli allenatori possono anche approfittarne per fare degli esperimenti magari lanciando qualche giovane da inserire gradualmente in prima squadra che credibile è duro da fare per il portiere gara che riprende col tono superiore vedremo se saprà da reagire subito 1 a 0 recupera un gran pallone di Ebo tentano scatto chiamo a disposizione per c'è il gol festeggiano il migliore dei modi il suo esordio dunque esordio con la nuova maglia spettacolare signori replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol a tu per tu col numero un avversario rimasto freddo ha preso la mira 2 a 0 bari contro il torino incredibile poteggio che è cambiato ora conducono per 2 reti a 0 stangata subito oh si ferma entra bene qui e recupera il pallone cavara vedo lo scatto di cavara scheria provano ad aprirsi un barco non ce la fa si riprenderà con un fallo laterale tenta un 1-2 cavara scheria numero cavara tenta il gol la posizione qui il portiere si fa trovare pronto sul filo avversario stavolta questo è il problema si batte buonissima bell'area no non credo che questo rinvio tempo efficace qui cavolo 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 ci sono diversi volti nuovi nell'organico di questa squadra a cominciare dall'allenatore oggi l'esordio in questa nuova avventura i tifosi ovviamente hanno grandi aspettative beh è difficile fare previsioni soprattutto quando si cambia guida tecnica perché devi dargli il tempo di collaudare gli schemi di trovare i giusti meccanismi il rischio è quello di lasciare punti pesanti per strada nelle prime partite che potrebbero poi fare la differenza a fine campionato però io credo che se accettato questa sfida evidentemente credi di poter dare il proprio contributo alla causa ecco Vara avanza Covara Schedia avanza Covara ancora Covara no e conquista la palla bene interrompendo una potenziale occasione da rete aumenta l'intensità del pressing non interrompe l'azione l'arbitro per il vantaggio interviene bene il difensore sul cross vai 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 che hai visto Ieboa uno due no cercava l'uno due Covara sbaglio oh che è sto pazzo super team caprile salseito salseito recupera un gran pallone vai oh fallo occhio a recupero in una zona interessante l'arbitro ferma il gioco e assegna il calcio di punizione ma io lo per stazito stazito ah sbaglia tutto ferreira servito vlasic sanabria grande tackle difensivo oh oh l'ho visto Covara ma l'interessante dello spazio Covara Covara si accentra è tutto Covara scherio eccolo che gol di Covara ma che gol ho fatto mamma mia super Covara che gol Covara scherio che sembra già decisa e siamo ancora nel primo tempo contrasto riuscito palla che rotola via aah sozio forse mi ho sbagliato anche io però la gioca profonda palla che resta in campo ha dovuto impegnarsi qui Sanabria pallone scodellato mamma mia meno male non c'è nulla qui l'arbitro fischia mette fine alla prima metà subito 3-0 ragazzi mamma mia che partita siamo il secondo tempo comincia il secondo tempo complicato ovviamente il recupero grande distanza fra le due squadre aah no che fa ottima lettura recupera il pallone grande intervento sarà caccia di posizione a favore del toro oh no oh caramubro è un bel attacco oh che liscio mamma mia me lo voglio si sapeva dell'esistenza della trattativa resta arrivata anche la team Sergio Canales che va che va penso sia davvero il giocatore giusto per questa squadra no lascia la miseria cosa aveva fatto che va bella ottima lettura azotta caia si riprenderà con un fallo laterale c'è un cambio nelle tira del Torino no cavolo pensavo non la prendesse bella esperto qui il difensore del Bari vedi chi è qua salseito vedi qua possesso consegnato agli avversari oh sbaglia tutto allora riparte che va ma dai ma non è possibile ferreina a spazio davanti a sé 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 per salvare la sua porta queste occasioni di solito si tramutano in gol pier stavolta però il portiero ha avuto la meglio grandissima parata alla messa in mezzo bellissima grande protego di inser il portiere su questa conclusione di testa è adulto non c'è nessuno davvero numero uno è per impedire al pallone di entrare prova la botta il portiere comodo l'intervento del portiere ma il portiere mi ha fatto venire una paura non c'è nessuno vabbè il controllo della sfera il toro prova a sfruttare le fasce laterali la difesa bellissima ma se ne esce il vari come se ne esce l'ho visto a Kavara ancora a Kavara Kavara che è avanzata possesso recuperati in area ha scelto bene il tempo manca ancora un quarto dove la fine di Cifero dice intercetta palla ma cavoli non l'aveva visto lo scatto di Kavara via Ferreiro servito classico può mettere da lì mandami ritorna bene qui il portiere che torna la forza occhio al tiro della bandierina bravissimo ma io lo trattieni vai 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 mazzotta mazzotta oh mazzotta è un pazzo spazio per la ripartenza fa il sedo tagliamo a ecco va da Ricci 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 ha sfoderato una super parata che partiene in porteggi di attelato straordinario in questa circostanza dell'uno contro uno abbiamo tutto da perdere ma come ne è uscito alla grandissima ecco va la mette in area per Kavara angolo che non ha portato a nulla provare a prendi sta palla bravissima provati non ci credo si è salvato con un pizzico di fortuna la traversa mamma mia traversa ha negato la zona del gol traversa ma cosa stava per fare Kmaraskelia mamma mia ho detto che era il tuo player di questa squadra ho fatto una bella azione ho fatto una bella azione cavolo oh oh Kaya ancora Kaya chiama la giù di là chiama la possibilità il portiere è pronto sul filo avversario è buonissima sta a seco no finita finisce il match con la felicità dei tifosi della formazione di casa per questa bella vittoria risultato che non fa una piega Pier se c'era una scuola grandissima vittoria ragazzi grandissima ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se siete nuovi vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like alla prossima ciao